ancora un episodio dove si accosta Gesù qualcuno per fargli una domanda delle domande sappiamo che a volte questo non è perché si ha il desiderio veramente di capire di mettersi alla ricerca ma semplicemente per mettere alla prova Gesù per metterlo in trappola per esempio in questa domenica ascolteremo l'episodio in cui a Gesù si chiede conto di cosa ne pensa sulla questione del ripudio da parte del marito verso la propria moglie in caso di adulterio in altri casi e Gesù fa riferimento a Mosè che cosa vi ha detto Mosè e Mosè aveva fatto delle norme al riguardo però Gesù va alla radice dice queste norme sono state date perché il cuore si è indurito ma all'inizio non fu così e riprende il disegno di Dio sulla creazione maschio e femmina li creò l'uomo lascerà il padre e la madre i due saranno una carne sola l'uomo non separe ciò che Dio ha congiunto la chiesa non è padrona di queste parole si mette in ubbidienza e le accoglie e le rimanda e le ripropone le ripropone anche alle giovani generazioni peccato che talvolta quando si parla con i giovani quando si fa la preparazione al matrimonio si parte dalle questioni della patologia del matrimonio della patologia dell'amore ma dove vogliamo andare da questo punto di vista noi dovremmo riannunciare come ha fatto Gesù il sogno di Dio sull'amore umano sulla famiglia un sogno che va custodito va accolto va messo sulle nostre gambe fatto camminare un giovane una uomo una donna che si innamorano non credo che si innamorino a tempo certo se è semplicemente un'infatuazione ma se veramente l'amore che uno vuole costruire su cui uno vuole poggiare la propria vita che vuole rispondere alla domanda di un per sempre che ci portiamo tutti dentro il per sempre dell'amore umano non è solo qualcosa che esce dalle mani del creatore è scritto nel nostro desiderio più profondo quel desiderio che il creatore stesso ha messo nel cuore umano allora Gesù riporta la questione alla radice non si lascia mettere in trappola e la rimanda anche a noi anche a noi che talvolta pure all'interno della chiesa magari di fronte al magisterio di papa francesco sul matrimonio sulla famiglia lo tiriamo per la giacca da destra da sinistra e papa francesco in analogia al suo maestro il signore seguendo il suo maestro il signore non si lascia intrappolare da questioni riguardanti il codice diritto canonico le norme nella chiesa ci stanno queste cose perché è normale perché la chiesa è chiamata anche a discernere le cose di questo mondo ma papa francesco rilancia ogni pie sospinto la bellezza dell'amore umano dell'amore coniugale dell'amore tra un uomo e una donna che corrispondono al disegno di Gesù e di Dio di metter su famiglia per continuare l'opera della creazione in un amore unico indissolubile fedele fecondo creativo che va accolto e custodito e per fare questo bisogna farsi piccoli quei piccoli che Gesù non disdegna non allontana ma prende abbraccia e benedice cerchiamo di metterci anche noi nell'abbraccio di Gesù nella sua benedizione nella sua accoglienza e diventiamo anche noi capaci come lui di questo buon cammino